Che il piano di rientro non andasse bene lo si era intuito da tempo e ormai era diventata una certezza. L'incontro ieri a Roma tra Oliverio e Beatrice Lorenzin deve essere preso con le classiche pinze e per tanti motivi. Intanto la convocazione era indirizzata a tutti i governatori regionali per discutere il patto per la salute 2014-2016. Una precisazione per la quale tocca anche a noi fare un mea culpa per non averlo forse sottolineato a dovere e probabilmente aver fatto intendere che ieri a Roma si sarebbe discusso esclusivamente del piano di rientro calabrese. Non è stato così, nessun interesse specifico ed esclusivo per la Calabria almeno nell'incontro di ieri. L'entusiasmo e la soddisfazione manifestata dal presidente Oliverio con la classica nota stampa può rappresentare al limite un nuovo punto di partenza sperando che i tempi della concretezza non si dilatino a dismisura. Le certezze invece sono due, che la sanità è commissariata e che comunque fino a che la struttura commissariale esisterà sarà uno degli interlocutori, il principale, del governo. Quindi resta valido il tavolo già istituito tra governo e commissari il 26 novembre scorso che prevede il nuovo appuntamento entro fine mese. Mese entro il quale comunque i commissari erano stati chiamati a presentare il programma operativo in autonomia rispetto alle volontà politiche. Visti i continui scontri tra Oliverio e Scura è facile ipotizzare che il lavoro della struttura commissariale procederà senza tenere conto di eventuali indicazioni di Palazzo Campanella. L'altra certezza è che il patto per la salute punta all'ottimizzazione delle economie regionali in ambito sanitario in collaborazione tra le regioni del sud. Tradotto significa cercare di ridurre la migrazione sanitaria, un aspetto quest'ultimo che dovrebbe favorire investimenti sui cosiddetti ospedali di frontiera come Praia e Trebisacce. Ma cosa si intende quando si parla di collaborazione tra le regioni? Se si sta ragionando già sul concetto di aria vasta anche probabilmente in virtù del progetto delle macro regioni, quelli che sono oggi i confini regionali potrebbero cambiare se non dal punto di vista di identità culturale da quello amministrativo. In pratica potremmo ritrovarci insieme alla Basilicata in un programma di razionalizzazione delle risorse sanitarie nell'ambito della macro regione del sud e il discorso sulla migrazione sanitaria per come lo intendiamo oggi sarebbe superato. A quel punto bisognerà capire a vantaggio di quale territorio e cioè dove, geograficamente parlando, potrebbero essere dilottate risorse economiche per costruzione di ospedali o potenziamento di strutture. Ad oggi, in ogni caso, la realtà concreta è fatta di livelli essenziali di assistenza da Maia Nera in classifica, la stessa che lo Svimez assegna alla nostra regione per qualità della gestione amministrativa. Sarà un caso?